Musica Ben ritrovati con le previsioni del tempo di Telenuova, questo il meteo sull'Italia domani, domenica 6 maggio. Al nord tornano nubi, piogge e freddo con temperature che subiranno un sensibile ed improvviso calo a cominciare dalle prossime ore. Piemonte, Lombardia, Ligure e Friuli ma anche parte del Veneto saranno prese di mira da acquazzoni. Il maltempo si sposterà poi dal pomeriggio sul versante costiero dell'Adriatico, le massime non supereranno i 17 gradi. Perturbazioni forti accompagnate da vento anche al centro della penisola, nuvoloso con rovesci sulla Sardegna. Al sud previsto un peggioramento dal pomeriggio, in particolare su Campania e sulla Puglia. Pioggia inserata sul nord della Campania e sul Molise e in nottata ha previsto un ulteriore peggioramento con le piogge che si sposteranno anche in Calabria. In Sicilia unica regione, invece bello e caldo. Siamo allo specifico proprio in Campania, l'indebolimento dell'anticiclone favorirà l'arrivo di aria umida e instabile proveniente da Ovest. Con l'arrivo di piogge il cielo sarà parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità. Occasione per qualche acquazzone tra il pomeriggio e la sera più probabile sul settore centrale e settentrionale della regione. La temperatura sarà in lieve diminuzione, i venti deboli di direzione variabile e il mare poco mosso.